I 150 volontari di protezione civile di Pesaro hanno una nuova casa. Sabato pomeriggio si è tenuto il taglio del nastro alla nuova sede in via Lombardia nei locali adiacenti al mercato ortofrutticolo. Dal sindaco Ricci al prefetto Ricciardi, dai comandi delle forze dell'ordine ai vertici regionali della stessa protezione civile, in tanti hanno voluto partecipare ad un unico grande grazie all'infaticabile azione di volontari moltiplicatisi nell'emergenza Covid. Volontari coordinati dall'applauditissimo Ugo Schiaratura che ora possono godere di spazi più adeguati. Quella di prima c'era poco spazio, qui invece c'è spazio sufficiente per fare le nostre attività, se abbiamo molto spazio esterno possiamo fare anche addestramento perché la protezione civile ha bisogno anche di fare addestramento perché noi dobbiamo essere sempre pronti quando interveniamo sulle cose che ci chiamano e ovviamente non veniamo, non siamo professionisti del soccorso ma siamo gente che ha fatto tutti i tipi di lavoro e noi intanto ci raddestriamo con le pompe, con le motoseglie, tutto quello che può servire per dare una mano alla gente. Pesolo c'è un gruppo di 150 volontari, è sufficiente per coprire anche i servizi che facciamo, i tamponi, i vaccini da più di un anno a questa parte e tutte le richieste che ci arriva dalla società, diciamo così, perché siamo stati a Marotta, siamo stati adesso una settimana fa, siamo stati anche in altri posti dove ci chiedono, riusciamo anche a coprire quei servizi lì. Non solo la sede, l'occasione è stata anche quella di presentare ogni linea d'azione del piano d'emergenza della protezione civile comunale illustrato dal geologo Luca Mosca e dal responsabile regionale David Piccinini. Abbiamo tante persone che hanno dato la loro disponibilità e continuano a darla. Abbiamo una richiesta continua di iscrizione, tant'è che l'obiettivo è quello di abbassare il limite minimo di età, quindi di portarlo a 16 anni come succede in altre situazioni. Sarà un modo anche per educare i ragazzi al civismo. Devo dire che i volontari in questi mesi poco fortunati per il nostro paese hanno dato cuore, energia e tanta voglia di fare e hanno dato risposte importanti alle esigenze dei cittadini, dal presidio dei punti vaccini ai tamponi, al consegnare la spesa a casa. Si sono resi disponibili dalle feste alle situazioni quelle un pochino più delicate. Come amministrazione comunale abbiamo individuato in questo spazio un luogo ideale perché ci sono gli uffici, ci sono i servizi, c'è un ampio spazio per il parcheggio e la sosta dei mezzi di cui la protezione civile comunale è dotata e devo dire che il nostro gruppo di protezione civile è attivo e pronto a sostenere anche criticità di altri comuni, come è successo anche i giorni scorsi, ci sono intervenuti a Marotta, lo fanno sostenendo il punto tamponi di Fano. Quindi è un grazie, questo qui vuole essere un momento non solo per presentare il piano di protezione civile comunale ma anche per ringraziare i tanti volontari che danno una mano a tutta la comunità. Sede della protezione civile che dal primo dicembre lavorerà a gomito con il nuovo drive tamponi che verrà allestito proprio in via Lombardia dopo l'esperienza in strada dei cacciatori archiviata ad agosto. Dal primo dicembre dovrebbero partire i tamponi perché prima erano un centro operativo, poi da agosto sono stati spostati a Fano, adesso siccome aumenta il numero lo riportano a peso, lo riportiamo all'interno della nostra sede. Penso che possa andare bene per tutti, è una sede che si presta abbastanza bene, poi vediamo, sarà facendo.